A capocci, sempre i forze Gunners. Pallo, rigore, rigore, rigore. Grazie, rigore, molto bene. Porco Dio. Vale, si vale. Andiamo tornando. Oh, oh, oh. Bravo, Gio. Oh, 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 oh. Staccata la camisa, devo ricordare. Oh, oh, oh. Facciamo così, allora. Adesso lo faccio. Non è calda giallo oggi. No, lei fa finita. Chi? Chi? Sì, ma ti fanno danni. 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 Allora, guarda. Guarda, guarda. Sì, ma ti fanno ancora. Battere, 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 battere. Go! Angolo! Il ricorrere doveva battere... Ha preso palo interno. Ha preso palo interno. Sì, sì. Ho capito, però... Non so perché non ha battito palo interno. Esatto, non capisco. Però va bene, non è che sei lì che ha tirato palo interno. No, non è quello, non è quello. Però... Sono d'accordo. Però c'è da dire che l'ha tirato bene. Cioè... Tirava in culo e lo potevo rosicavo. Però così... Ha tirato un bel rigore comunque. Se la sentiva? Sì, sì. Però non c'è senso. Tutto qua. Facciamo una cosa sensata. Sono d'accordo. Ma al momento in cui ha tirato un bel rigore, non c'è sebolla. No, no, no. Ragazzi. Se palo interno non poteva prendere... Trico! Fondo! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti